La Puglia piange un altro morto sul lavoro, nulla da fare per un operaio 70enne precipitato da 6 metri mentre lavorava su una palazzina cerignola. Il mondo del lavoro è un mondo senza regole, ha commentato il primo cittadino Bonito. 23 profughi ucraini presi in carico dalla regione nella scorsa notte. Tre nuclei familiari arrivati a Bari e poi portati nel centro vaccinale di Valenzano per i controlli si trovano nel centro di accoglienza di Gioia del Colle, intanto via libera il piano nazionale di assistenza. In giornata le ordinanze. Bifesta la registra ucraina Onyshenko, il premio Fellini dedicato ai cineasti del suo paese. Molti di noi, spiega, non hanno mai imbracciato un'arma ma stanno combattendo. Ben ritrovati con l'informazione in diretta di Antena Sud. Come avete sentito nei titoli, purtroppo la Puglia piange un altro morto sul lavoro. Si tratta di un settantenne di cerignola precipitato da 6 metri mentre lavorava su una palazzina. Il mondo del lavoro è un mondo senza regole, ha commentato il primo cittadino Bonito. Due morti sul lavoro in due giorni. È il triste bilancio della nostra regione che dopo Anthony Turnone, morto a 30 anni, folgorato da una scarica elettrica, piange un operaio di 70 anni precipitato mentre stava effettuando dei lavori su una palazzina alla periferia del centro Fantino. Stando alla prima ricostruzione dei carabinieri che stanno indagando sull'accaduto, l'uomo stava montando una guaina sul cornicione di una palazzina al primo piano in via Pantanella quando avrebbe perso l'equilibrio cadendo al suolo dopo un volo di 6 metri. Sul posto sono giunti gli operatori del 118 ma per l'operaio non c'è stato nulla da fare. L'uomo è morto poco dopo per le gravi lesioni subite. Sull'accaduto i carabinieri e gli operatori dello spesa, il servizio di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro della ASL. Gli investigatori stanno accertando se l'operario stesse lavorando seguendo tutte le procedure di sicurezza previste dalla legge. Gli investigatori stanno anche verificando la posizione lavorativa del settantenne da accertare se la vittima lavorasse per conto di una ditta o se fosse lui stesso il titolare. È impensabile perdere la vita mentre si sta portando a termine il proprio lavoro. È successo questo oggi a Cerignola e adesso saranno le autorità competenti a individuare le dinamiche e la cronologia degli eventi, ha commentato il primo cittadino Francesco Bonito. Dal canto nostro, oltre ad esprimere vicinanza alla famiglia della vittima, non ci resta che una mara riflessione, un morto sul lavoro. È sempre una grande ferita per tutta la città, perché spesso il mondo del lavoro è un mondo senza regole. Due vittime in due giorni in altrettanti incidenti sul lavoro, tre in una settimana, non possono essere accettate. Serve una risposta concreta da parte delle istituzioni di sicurezza sul lavoro. Bisogna occuparsi tutti i giorni, non solo quando avvengono incidenti di questa portata, ha commentato l'assessora regionale all'Uelf, Rosa Barone. Cambiamo argomento. Sono arrivati nella notte 23 profughi ucraini che questa mattina sono stati sottoposti a screening sanitario e tamponi nel lab di Valenzano, nel Barese. Sono stati tutti accolti nel centro accoglienza di Gioia del Colle. E' arrivata mia madre e mia sorella con la figlia. Loro sono stanchissime perché comunque due ore di viaggio, cioè è normale che sono stanche. Però la piccolina dice che lei non ha dormito, non vuole mangiare, non vuole niente, vuole stare sveglia perché vuole vedere tutto, vuole controllare tutto. 23 profughi ucraini sono stati presi in carico dalla protezione civile pugliese. Si tratta di tre nuclei familiari giunti a Bari successivamente portati nel centro vaccinale di Valenzano e sottoposti a controlli sanitari e a tampone. Dieci donne, di cui una in stato di gravidanza e tredici bambini, fra cui un neonato. All'arrivo dopo il faticoso viaggio hanno trovato generi di primo conforto. Al termine dei controlli e delle procedure burocratiche sono stati condotti nel centro di accoglienza straordinaria di Gioia del Colle nel palazzetto dello sport di Valenzano, invece, sono stati assistiti dagli operatori sanitari Asl Bari e dai volontari della protezione civile. In questo momento sono arrivati in Puglia 1872 profughi ucraini che, come vedete anche qui stasera, spesso li stiamo ospitando prima di tutto in queste strutture, che sono strutture dove gli viene fatto uno screening, gli viene fatto un tampone, gli viene dato il codice STP e poi si fa un'anamnesi della situazione sanitaria complessiva. Siamo anche, come Asl di Bari, abbiamo preparato anche dei protocolli specifici sull'accompagnamento dei minori e sul tipo di attenzioni da dare a queste famiglie che ovviamente arrivano qui dopo un lungo viaggio affrontando una condizione tremenda. Ci stiamo attrezzando quindi anche per il pieno sostegno anche psicologico. Un protocollo unico per mettere a punto procedure che permettano di gestire i flussi dell'accoglienza senza creare disagi sui territori. Antonio De Carone ribadisce la necessità da Presidente del Lanci. Un protocollo unico per mettere a punto procedure che permettano di gestire i flussi dell'accoglienza senza creare disagio sui territori. Antonio De Carone ribadisce la necessità da Presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani a sbrogliare la matassa, un costituendo tavolo di lavoro con governo, protezione civile e regioni, il nodo e il coinvolgimento dei primi cittadini nella crisi umanitaria conseguente al conflitto internazionale in corso. Massimiliano Fedriga, del numero uno della conferenza delle regioni, ha convocato l'organismo in seduta ordinaria per le prossime ore tra i temi all'ordine del giorno, la proposta di un documento che contenga gli interventi in favore del sistema impresa per fronteggiare gli scossoni economici che non si sono ancora fermati. Finora sul territorio regionale intanto si stimano 1870 arrivi, un migliaio di maggiorenni e 800 minori. In larga parte si tratta di donne e bambini, circa 2000 invece le adesioni ottenute dall'accordo dall'ente di via gentile con albergatori e bnb. Adesso andiamo a Bari alla regista Ucraina Onyshenko e il premio Fellini dedicato ai cineasti del suo paese. Molti di noi, spiega, non hanno mai imbracciato un'arma ma stanno combattendo. E' arrivata sul palco del teatro Petruzzelli con la bandiera ucraina in spalla e una t-shirt bianca con la frase che ormai da oltre un mese è diventata il simbolo della resistenza dopo l'attacco all'isola dei serpenti. Nave russa vai a farti fottere. Daria Onyshenko, regista del film Zabuti di Forgotten, proiettato fuori concorso per la sezione panorama internazionale al Bifest, il Bar International Film Festival. La regista sul palco del teatro barese ha ricevuto il premio Fellini dedicato ai cineasti dell'Ucraina. Queste persone non hanno avuto una grande formazione, non hanno mai imbracciato un'arma e mettono a rischio la propria vita talvolta anche senza gli strumenti basilari come i giubbotti antiproiettili o i caschi e molti artisti e cineasti sono all'estero ma comunque stanno cercando di dare il proprio supporto attraverso dei progetti, raccolte fondi, acquistando proprio il materiale come vi dicevo anche i caschi in occidente per poter fornire appunto aiuto a chi è al fronte. Ci sono anche Brindisi e Bari nella vittoria di Avio Aereo sul colosso francese Safran nella giudicazione di un'importantissima commessa. Gli stabilimenti di Brindisi e Bari di Avio Aero avranno un ruolo centrale nel progetto internazionale per la realizzazione di un eurodrone, ossia di un sistema aereo a pilotaggio remoto a media altitudine e lunga durata con capacità versatili e adattabili per missioni di intelligence, sorveglianza, acquisizione obiettivi e ricognizione o per operazioni che coinvolgono la sicurezza internazionale. Airbus, responsabile della selezione del fornitore del motore, ha infatti scelto il Catalyst proposto da Avio Aero per la propulsione del velivolo e l'accordo prevede la fornitura di 120 motori e la relativa manutenzione e service. Nella produzione dei 16 prototipi finora realizzati di Catalyst, un progetto in cui sono impegnate accanto all'Italia, la Francia e la Germania, hanno avuto un importante ruolo gli stabilimenti di Brindisi e Bari di Avio Aero. A Brindisi sono realizzate le parti del motore grazie all'utilizzo di stampanti 3D. A Bari, in collaborazione tra il laboratorio integrato multidisciplinare Energy Factory Bari di Avio Aero e il Politecnico di Bari, è stato testato sul motore il Fadec, cioè il sistema di controllo integrato di elica e motore che assicura al pilota un miglior controllo e una maggiore reattività. La scelta di Catalyst, un motore collaudato in volo, interamente sviluppato e prodotto in Europa, rafforza la competitività del sistema aerospaziale pugliese e permette l'aumento dei posti di lavoro, in particolare nello stabilimento di Brindisi, dove sono già impegnati circa 500 dipendenti. Parliamo di politica. Il deputato biseliese Francesco Boccia, commissario ad acta per accompagnare al Congresso il PD pugliese. Francesco Boccia, commissario, Enrico Letta, gli chiede di prendere le redini del PD pugliese, ma ad acta, che poi vuol dire espressamente con il compito di accompagnare il partito nella celebrazione dei congressi, organizzare la fase di tesseramento, rafforzare la presenza territoriale del partito, anche in vista delle prossime amministrative. I congressi regionali, di federazione e di circolo dovranno essere indetti entro l'estate prossima, un po' meno di quanto non chiedesse una parte dei Dem, che avrebbe preferito una figura a pieni poteri, comunque più della possibilità di lasciare tutto com'era, nelle mani di Marco Lacarra. È stato proprio il segretario uscente, deputato barese, a sbloccare l'impassa di inizio settimana, dicendosi pronto a rimettere il mandato da numero uno dei democratici pugliesi. Prima decisione del deputato vicegliese, quella di insediare un comitato di indirizzo per le attività dei circoli, sarà composto da Antonio De Caro, primo cittadino di Bari e presidente Anci, da Loredana Capone, numero uno dell'Assemblea regionale di Via Gentile e Raffaele Piemontese, vice di Michele Emiliano, alla guida della Giunta. Ora la lettura del bollettino epidemiologico salgono i casi, ma sono di meno rispetto a sette giorni fa, 10.805, i test positivi riscontrati quest'oggi su 48.726 tamponi, 10 le persone decedute, salgono a 691, 653 in aree non critiche, 38 in terapia intensiva, i ricoverati, mentre gli attualmente positivi sono stabili a quota 116.924, più o meno gli stessi rispetto al giorno precedente. Ci fermiamo qui con l'informazione regionale, ma torniamo tra pochissimo con le notizie dei territori.